Piuttosto che un consiglio regionale, noi abbiamo avuto un coniglio regionale che si è adeguato pedissequamente ai diktat dell'austerità, della riduzione della spesa. Quando noi sentiamo in televisione parlare i governi da Monti a Draghi oggi, che bisogna far quadrare i conti, questi conti passano sulla pelle dei cittadini. C'erano una volta 233 posti letto nelle terapie intensive abruzzesi. Era il 2008, l'anno in cui cadde l'Aggiunta del Turco a seguito dell'inchiesta della Procura di Pescara sui rapporti tra politica e sanità privata. 12 anni dopo, quando il Covid piombò nelle nostre vite a inizio 2020, i letti disponibili in rianimazione erano appena 94. Una riduzione del 60% che fu tra le maggiori cause del collasso del sistema ospedaliero regionale, quando il virus iniziò a diffondersi rapidamente. Il Covid in Abruzzo ha avuto gioco facile, incalza il segretario regionale di rifondazione comunista, che punta il dito contro le diverse amministrazioni, di centrodestra e centrosinistra, che in questi anni si sono succedute alla guida della regione. In questo momento, in questa seconda ondata, forse arriverà anche una terza, siamo costretti a mandare i pazienti di intensiva fuori regione, quando nel 2008 avevamo 233 posti letto. Cioè un numero superiore ai 215 che abbiamo raggiunto oggi, dopo aver speso decine di milioni di euro per adeguare un punto di partenza che era stato ridotto a 94. Cioè noi abbiamo affrontato la pandemia con 94 posti letto, dati ufficiali, dichiarazioni del Presidente Marsiglio. Io direi che abbiamo una politica talmente irresponsabile che, per citare Di Andrè, si costerna, si impegna, poi getta la spugna, quando invece dovrebbe essere chiamata a rispondere alle proprie responsabilità. Sia la Giunta Chiodi, sia la Giunta D'Alfonso, che questa Giunta Marsiglio hanno creato il massacro sanitario in Abruzzo. Con lo scoppiare della pandemia, in questi mesi si è corso ai ripari e ad oggi il numero di posti letto in terapia intensiva ha quasi raggiunto quello del 2008. Il problema però, dice Marco Fars, è che si privilegia ancora la sanità privata a discapito di quella pubblica. Noi non vediamo onestamente questo cambio di passo e questo cambio di marcia. Tutta la sanità è sempre stata orientata con un'attenzione al privato e proprio questa pandemia ci ha dimostrato che, quando poi c'è bisogno per la nostra salute di avere una sanità efficiente, è il pubblico che ci pensa, non il privato. Però continuano a fare i favori al privato. Grazie. Grazie. Grazie.